siamo all'Audi Autocentri Balduina entriamo sperando che sia aperto ma io penso proprio di sì anche perché vedo la gente che entra perciò è aperto sicuramente guardate che spettacolo le macchine sono la passione mia ragazzi c'è un cacchio da fare mi giro tutti i giorni in stato saloni ma certo questi vanno pure affanculo entriamo vedete eccolo qui vedete che meraviglia qui una volta c'era la RS6 ora c'è la 6 avanti normale ma andiamo per gradi senza correre che meraviglia che spettacolo comunque anche dai grazie 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 ha guinati la faccia vi la c'è giusto per farvi 대한 idea di qu神, giusto per farvi vedere l'idea di quanto costa molto meno della BMW i8 molto ma molto meno troppo non c'è abbastanza spazio comunque io penso che si capisca e poi c'è il classico che vediamo in giro ovunque che spettacolo la S1 una piccola barra ora vi farò vedere anche quanto costa capito? andiamo all'usato usato dell'eccellenza dicono loro sarà che il Ferrari testa rossa è il Ferrari testa rossa ragazzi però uno quando c'è la passione dei manchi quindi ce l'ha questa è la LAR6 altri cabrio altri normali